il nominè è molto apprezzato per la sua miscibilità parliamo con vittorio mancini tecnico buyer di questo aspetto allora il prodotto e non ha difficoltà di miscelazione con nessun altro principio attivo un pochettino con le accasi ma per il resto è miscibile con tutti gli altri principi attivi e trova un'ottima soluzione soprattutto nella miscibilità con i immaginamogs